Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, ben ritrovati sul canale di AC Milan Inside. Quest'oggi andremo a fare un veloce prepartita inerente al match domani delle 12.30 contro il Venezia allo stadio per Luigi Penso, appunto, del capoluogo Veneto. Prima di iniziare, come al solito, però vi chiedo di lasciare un like, un commento, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, così da rimanere sempre aggiornati su quelli che sono i contenuti che vi porteremo qui su YouTube. In più, in descrizione, troverete anche i nostri profili social, quali Instagram, Facebook, Telegram, Discord, ma anche il nostro sito internet ufficiale, ovvero www.acmilaninside.com. Dopo la convincente vittoria del Milan contro la Roma il giorno dell'Epifania, i rossoneri vogliono continuare. La loro striscia positiva di risultati, iniziata con l'Empoli alla fine del 2021, andando, o meglio, provando ad andare a vincere in un campo ostico, come lo stadio per Luigi Penso di Venezia, contro i Leoni di Zanetti. I rossoneri arrivano alla sfida, ovviamente, carichi dell'importante vittoria nello scontro diretto contro la squadra capitolina, ma i rossoneri non devono assolutamente sottovalutare una squadra che in casa è riuscita a fermare squadre come Juventus, pareggiando 1-1, e proprio la Roma vincendo addirittura 3-2. I rossoneri arriveranno a questa sfida con i recuperi totali, o meglio, quasi totali, di Ante Rebic, di Zlatan Ibrahimović e di Rafaelao, Rafaelao che poi risultato essere fondamentale nella sfida di giovedì contro la Roma, siglando il gol del tentativo 3-1, con ancora i box Calabria, Romagnoli e Tomori colpiti da questo maledetto virus. I rossoneri arriveranno a giocare contro il Venezia, che in questo momento è una delle neopromosse più in forma di questo campionato. La scorsa partita, ovvero il match dell'Epifania contro la Salernitana, non l'hanno giocato perché l'aslo di Salerno ha bloccato la trasferta, ha bloccato la partita per la squadra di Colantuono, in quanto tuttora ci sono nella squadra campana un numero troppo elevato di positivi al virus. Quindi il Venezia giovedì non ha giocato la sua partita, la sua ventesima giornata di campionato, si dovrà capire effettivamente se la recupereranno o meno e quindi avrà forze fresche per provare a strappare punti a un Milan che vuole rincorrere l'Inter, anche egli fermato da questo Covid a Bologna. In questo momento il Venezia si trova sedicesimo in classifica a 17 punti, a 4 punti dalla zona retrocessione che è attualmente occupata da Cagliari, Genoa e Salernitana. La squadra veneta comunque, con una partita in meno, qualora dovesse ottenere i punti, si ritroverebbe subito al quindicesimo posto a discapito della Sampdoria. L'uomo più forte, o meglio il più pericoloso dei Leoni è Mattia Ramu, sicuramente uno dei talenti di questa squadra, della squadra di Zanetti. Attualmente Mattia Ramu, il trequartista numero 10 della squadra veneta, ha collezionato 16 partite in campionato, 4 ammunizioni, 5 reti e ben 3 assist, giocando, partendo da titolare, all'incirca per il 68% delle volte. Mattia Ramu ovviamente sarà l'uomo in più per questo Venezia, ma ovviamente è giusto non andare a sottovalutare anche gli altri membri di una rosa molto valida, tra i quali possiamo anche riconoscere Henry, la loro prima punta, e quest'anno ha siglato ben 3 reti. Henry, che quest'oggi, anche lo stesso Stefano Pioli, ha tenuto a citare durante la conferenza stampa, dicendo che Leao, quando gioca come vuole lui, ricorda molto un poco il Thierry Henry del Monaco, dell'Arsenal e del Barcellona. Stesso Stefano Pioli, che in conferenza stampa poi quest'oggi ha deciso anche di elogiare Gabby e Calulu, che si sono trovati essenzialmente ad essere in serie di informazioni, una partita difficile, ma si sono comportati alla perfezione, merito anche di un gruppo, che anno dopo anno, anche grazie allo stesso mister, tende a solidificarsi sempre più. Per concludere, comunque per rendere questo video giusto e informativo, è il meno pesante possibile, visto che parlare di dati e statistiche talvolta può anche arrivare a scocciare, andiamo ad analizzare quella che potrebbe essere la probabile formazione della sfida di domani. A porta, ovviamente, i rossoneri si presenteranno con Mike Magnan, Magic Mike, come lo chiamano i tifosi rossoneri, un soggetto imprescindibile in questo Milan, soprattutto dopo la prestazione sontuosa offerta dal francese, giovedì contro la Roma di Murigno. Continuando, l'arrioguardia difensiva sarà composta da Florenzi, Calulu, Gabby e Teo, stessa difesa della sfida dell'Epifania, anche per necessità ovvie da parte dello stesso Stefano Pioli, che si augura di recuperare il primo possibile Calabria, Romagnoli e Tomori. Anche in questa circostanza penso che Teo Hernandez sarà nuovamente il capitano della formazione rossonera. Per quanto riguarda invece il centrocampo, ci saranno Tonali e Bakayoko, Tonali imprescindibile anche lui, un po' come il francese, dopo la santuosa prestazione di giovedì contro la Roma, mentre Bakayoko si è mostrato essere molto molto sveglio, molto polipesco, come era il suo solito giocare nella sua prima avventura rossonera, e è entrato molto bene in campo, nonostante un inizio un poco shock. Quindi Bakayoko preferito a Kronic, il quale ancora una volta però nella sfida di giovedì si è mostrato essere utile e molto utile ai fini degli schemi della squadra rossonera. La tre quarti sarà composta da Messias, Brahim Diaz e Leao, tre degli uomini più in forma di questo Milan, escluso Brahim Diaz, che post-Covid deve ancora recuperare la sua miglior condizione, Messias e Leao, perdona, addirittura Messias, nelle cinque volte che ha giocato il dolari, quattro volte è andato a segno. Mentre Leao, dopo l'inizio fulminante contro la Roma, ma come ha detto anche stesso oggi Stefano Pioli in conferenza stampa, ha bisogno di ritrovare il minutaggio, non è ancora al 100%, ma piano piano tornerà sui suoi livelli. Prima punta, Giroud, ancora una volta preferito a Zlatan Ibrahimovic, un Ibra che deve essere carico e pronto, immagino per la sfida contro lo Spezia, ma anche contro il Genoa di Coppa Italia, per poi essere al 100% contro la Juventus. Giroud che comunque potrebbe risultare essere ancora una volta l'uomo in più di questo Milan, uno che, qualora giocasse come la sfida di giovedì contro la Roma, davvero potrebbe risultare essere uno dei migliori numeri nove che il Milan ha avuto negli ultimi dieci anni dall'addio di Super Pippo Inzaghi. Ovviamente nel corso del match penso che Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic verranno inseriti, esclusi ovviamente situazioni di risultato troppo favorevoli al punto che Pioli preferisca risparmiarli. Per quanto concerne i disponibili, ovviamente noi come ben sappiamo abbiamo Romagnoli, Tomori e Calabria colpiti dal Covid e Pellegri che deve ancora recuperare dall'infortunio all'adduttore che lo ha tenuto fermo per i campi per circa un mese dopo l'infortunio contro la Salernitana. Per il momento è tutto, ci sentiamo domani, casomai per ulteriori aggiornamenti di merito a questo match. Mi auguro che questo video possa esservi stato utile in procinto della partita di domani. Ci sentiamo in un prossimo video e sempre Forza Milano!